Ennesimo incidente sul lavoro a Salerno. Nel primo pomeriggio di oggi un operaio trentenne del centro storico è stato schiacciato al porto da un carrello durante le operazioni di movimentazione dei container. Una vicenda drammatica che ha fatto scattare immediatamente la reazione dei sindacati, necessario tenere alta la guardia. Un incidente quest'oggi capitato nel porto di Salerno, un incidente drammatico. Stare l'attenzione dalla classica emergenza sicurezza che è pur sempre focale e fondamentale all'interno del porto di Salerno perché questo è stato un incidente purtroppo che fuori dai classici canoni in quanto è avvenuto per una fatalità. Proprio nei giorni scorsi il segretario nazionale della CGL Maurizio Landini è stato a Eboli per puntare l'attenzione sulle stragi sui luoghi di lavoro. Anno drammatico, infatti di qualche giorno fa c'è stata un'iniziativa nazionale non più morti nei luoghi di lavoro dove a Salerno è arrivato anche il nostro segretario nazionale Maurizio Landini che ha detto e ribadito che la sicurezza non può essere vista come un costo ma come una necessità perché non si può morire di lavoro. non si può morire di lavoro quindi l'attenzione sulla sicurezza è sempre alta, va sempre salvaguardata.